Buongiorno a tutti, sono Bianchi Fabio e faccio parte del team analisi e technical support di Ediclima. Oggi voglio invitarvi a seguire un nuovo corso online che vi aiuterà nella compilazione della relazione tecnica di legge 10 nazionale secondo il DM 2606 2015 dei requisiti minimi. Faremo un breve inquadramento legislativo per poi passare in rassegna le verifiche di legge e per ognuna di queste elencheremo criticità e possibili soluzioni. Infine analizzeremo il modello di relazione tecnica e descriveremo nel dettaglio ogni singolo punto. Non vi resta quindi che iscrivervi numerosi, io vi aspetto online. Grazie.